Questa è la prima tappa del Grand Tour in Irpinia, quanto realizzato fino ad oggi mi fa confermare che è veramente un progetto ben articolato per la promozione del territorio irpino. Pertanto far parte di questo network è sicuramente una grande occasione per la promozione turistica del nostro territorio. Cosa si potrebbe fare? Quali sono le ulteriori strategie? Ebbene, bisogna innanzitutto credere che il turismo possa essere una risorsa per i nostri territori e continuare a lavorare in questa direzione, attingendo a finanziamenti europei finalizzati allo scopo e cercare di sensibilitare e ad aiutare i privati ad investire. Come amministrazione comunale stiamo già lavorando in questa direzione, tant'è vero che stiamo per istituire la diminuazione comunale, la cosiddetta DECO, proprio per valorizzare le attività e i prodotti agroalimentari del nostro territorio. Bisogna ricordare che non sono solo i figli caratteristici del nostro territorio, ma il nostro territorio rigade anche nella zona di OCG del Taurasi e quindi va valorizzato anche l'Ovaglianica e nello stesso tempo la castagna che è tipica della nostra zona, la cosiddetta rossa di San Mango. Credo che questa sia la strada maestra da seguire. Solo facendo ridere tra enti pubblici, operatori del turismo e associazioni, possiamo dare un contributo netto alla promozione del nostro territorio, attirando i visitatori e quindi portando ricchezza. Innanzitutto ringrazio voi per aver organizzato così meravigliosamente l'evento. Auguro una buona riuscita dell'intero progetto Gran Turri Erpinia e colgo l'occasione anche per salutare i colleghi sindaci degli altri comuni.